bella ragazzi tornate a questo bella tutti grazie per il video di un film di fiducia questo qua è la lap di mia cugina con lei che non si può nominare la fidanzata di lord voldemort che anche lui non si poteva fare ok scusate la fidanzata di lord voldemort che anche lui non si poteva fare dire il suo nome siamo tornati scusate ma c'è voluto what the fuck tradotto in italiano va a fanculo vai a fanculo vai a fanculo no vai a fanculo non lo so comunque come mi chiamo io oh ma hai rotto le palle con sti cacchio di messaggi di merdi whatsapp ok vuol dire buona pasqua oggi siamo sullo speciale sei accorta che stavo riprendendo dovete sentire sta roba come ti chiami? il mio nome è testa di minchia bellissimo ragazzi bellissimo come ti chiami? il mio nome è mattia di fiducia il migliore ah grazie non so neanche chi sei qui abbiamo il famosissimo dart fader il mio nome di star wars preferito a proposito di star wars nel prossimo video voglio dirvi delle cose che farò io nel mio canale sui montagna che ci sarà presente mia cugina il mio amico andrea che lui posso nominare o che mi ha detto lui stesso e la sua cugina bea anche lei si può nominare per oggi è tutto lasciate un mi piace anche sulla mia pagina facebook condividete anche sulla mia pagina instagram adesso sono anche instagram questo è tutto ci vediamo